Sì, ci sono stati ritmi altalenanti, ci sono stati momenti dove abbiamo avuto un cappuccini veramente molto solido in ricezione e in difesa, in momenti dove ci siamo comunque un po' alternati, non abbiamo mai avuto il set al 100% in mano, ce l'hanno anche un po' regalata loro. Sì, tre punti che comunque ci danno una mano, ho visto Civita che stava vincendo, la classifica ci è pure girata bene, quindi sì, tre punti molto importanti. Sì, abbiamo un periodo abbastanza difficile, però dobbiamo puntare a ritrovare il nostro ritmo in allenamento e poi fare la nostra palla a vola, che ha messo in difficoltà squadre anche molto più in alto, in classifica, anche quelle che stanno ai vertici. Sì, mi fa piacere, ho sempre voluto, insomma, sono contento, sì che... Ha fatto Bruno, veramente è stato molto gentile, mi ha pure risposto alla storia, veramente sono contento.